Ciao ragazze, allora il video di oggi è una recensione su questa palettina della Essence All About Sunrise Allora, appunto, si è della Essence, costa 4,75€ Ci sono appunto 6 colori, che adesso vi mostro meglio Eccoli, sono tutti shimmer, tutti quindi con i brillantini Sono molto pigmentati e durano più o meno su di me 5 ore, 5 ore buone Ma anche di più, insomma, hanno una buona durata Poi, adesso vi mostro, faccio lo swatches Questo è il primo, che ha un bianco Vedete, sono molto pigmentati Poi c'è questo qui vicino Si riescono a fare un sacco di trucchi Usando questi colori Ma sono belli anche messi da soli su tutta la palpebra Questo è il mio colore preferito, che è l'oro Perché è davvero pigmentatissimo, secondo me E poi sta bene su tutti Questo è il colore Non so se si riesce a capire Ma che perde più glitter Quindi è un po' un casino metterlo Però è bello anche questo È molto pigmentato Quindi con un po' di attenzione Si riesce a mettere per bene E questo invece, a parer mio Non so se è solo la mia palette Però mi sembra Non so, ecco, si riesce un po' a capire Questo qui, nella mia palette Non è shimmer È quasi opaco Si dovrebbe vedere un po' anche dal di qui E quindi, però Credo sia un difetto solo della mia palette Però, niente In generale, sono tutti quindi molto pigmentati Lunga durata E sì, niente Quindi ve li consiglio Vi consiglio molto questa palette Il mio Ah, esistono altre tre palette Di questa linea Della Essence All About E dopo qui è Sunrise Ma ci sono altri nomi Per le altre palette Però So che non sono All'altezza di queste Di questa qui Perché questa È la migliore Ah, sono leggermente polverosi Ma niente di che E secondo me Il metodo migliore per applicarli È col dito E niente Quindi il mio voto finale Per questa palette È nove Perché mi è piaciuta davvero tantissimo E so che non sono l'unica A cui è piaciuta Quindi Quindi sì Penso Vi consiglio di Di prenderla E noi ci vediamo alla prossima Spero che questo video Vi sia stato utile Vi sia piaciuto E niente Ciao Ciao